Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono tornata con un video back to school e in particolar modo vi mostrerò 5 modi per indossare la camicia bianca che si sa essere un capo estremamente basico un evergreen che si abbina con qualunque cosa però magari alcune di voi e in generale anch'io certe volte mi trovo in difficoltà perché vorrei abbinarla in una maniera un po' più sfiziosa piuttosto che la classica camicia bottonata giù oppure dentro il pantalone ecco oggi vi aiuterò e vi consiglierò 5 modi per indossarla in maniera un po' più fashion ovviamente sempre nell'ambito scolastico oppure universitario perché come sapete io cerco di includere sempre tutte voi perché so che mi seguono sia le più piccoline che anche le più grandi ovvero voi che quest'anno o inizierete un percorso all'università oppure proseguirete quello che avete già intrapreso e quindi niente, direi di iniziare subito perché non vedo l'ora di mostrarveli prima di andare al video però non dimenticarti di iscriverti al canale di cliccare sulla campanellina per non perderti nessun video e seguimi anche su Instagram mi trovi come Giulia Mineo con doppio G all'inizio grazie a tutti 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 grazie a tutti